Ciao, nel video di oggi parliamo di come sedurre una ragazza in discoteca e in questo caso farlo velocemente. E per farlo analizzeremo una delle scene iniziali del film Toy Boy. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo, dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Ok, quindi qui lui sta entrando nel locale e notiamo subito una cosa che ora ti faccio vedere. Come vedi tutti sono in fila e lui passa e ora vedremo il perché questo è possibile. Ok, quindi come vedi in buona sostanza lui ha quello che in gergo tecnico definiamo come riprova sociale. Cioè a qualche modo che nel film non viene spiegato, si è lavorato quelle che sono alcune delle figure chiave del locale e quindi questo gli permette di entrare e saltare la fila, che quindi è una DHV, dimostrazione di valore superiore nel caso alcune ragazze che erano all'infila l'abbiano visto. In generale questo può portare a tutta una serie di vantaggi che ora mi è impossibile descriverti qui in un video breakdown. Però la lezione da estrapolare per te è che tu devi cercare nei locali in cui vai, se sono locali ovviamente in cui vai frequentemente, di ricreare la stessa riprova sociale con i buttafuori, con i barman, con i PR, eccetera eccetera. Qui puoi apprezzare il culo della tipa per voi porci su YouTube. Scherzi a parte, questo è un locale molto buono se tu hai qualcosa del genere nella tua zona, nel senso che puoi vedere come in realtà sia praticamente una discoteca, anche se mi sembra di capire poi da come va a evolversi la scena che sia anche un ristorante, ma in buona sostanza hanno i vantaggi della discoteca, più il vantaggio di poter parlare in maniera ravvicinata, in maniera chiara, cosa che non è vera in tutti i locali notturni, quindi questo è un qualcosa di positivo. E qui praticamente lui inizia a guardarsi in giro. Quando entri in un locale ci sta, però fai attenzione a quello che fai tu, che significa, come stiamo per andare a vedere, lui in parole povere ora inizia a girare per locale e fa DHV in buona sostanza mettendosi a parlare con tutte o una parte di quelle che sono le tipi all'interno del locale che si è già trombato. E in realtà questo è un qualcosa che succede anche nella realtà, cioè che ti ritrovi davanti a diverse tipi in un locale con cui hai già fatto sesso e questo è uno dei motivi per cui in altri video spiego come in realtà devi riuscire a chiudere in buoni rapporti. Ma tornando a noi, se tu sei agli inizi, ovviamente non hai questa cosa, quindi devi stare attento, nel senso che molto probabilmente non puoi permetterti di girare per il locale così tanto come lui, senza approcciare e senza entrare in situazioni con ragazze, gruppi, eccetera, eccetera, perché altrimenti ti fa apparire, per così dire, predatorio, cioè sei tipo un lupo che gira affamato per il locale guardandosi intorno, ma che non approccia e che non è visto in gruppi da altre persone con altri, quindi questo è molto molto importante. E un'altra cosa interessante di questo locale che è molto difficile che tu, se sei all'inizio e non hai soldi da spendere, o molti soldi da spendere, riesca a replicare in quella che è la tua zona, è il fatto che, come vedi, ha un ottimo ratio donne versus uomini. Ripeto, non è detto che sia realistico replicarlo nella tua zona, ed è difficile replicarlo anche in posti più grandi comunque, quindi, però è un qualcosa che andava notato. E qui una cosa interessante da notare, come vedi, lui sembra che abbia un caffè o qualcosa del genere, questo poco ci importa, ma spesso alcuni principianti dicono, visto che il consiglio è di non bere, francamente, nei locali notturni, perché altrimenti non possono capire quello che sta succedendo, gli errori che stanno facendo, non possono fare analisi, eccetera, eccetera. E quindi dicono, ma cosa faccio se mi vedono bere tipo una bottiglietta d'acqua? Non mi frega un cazzo a nessuno, ragazzi, se piacete alla ragazza, piacete alla ragazza, se non piacete alla ragazza, non piacete alla ragazza. Ecco, qui rivediamo un attimo la scena, perché questa, la bionda, in realtà è la ragazza con cui finisce a letto. Quindi vedi come lui la guarda, i due si guardano, e poi lei ancora, insomma, mentre lo è girato, continua a guardarlo. E ora, nella realtà, lui ovviamente non saprebbe che lei lo sta guardando, ok? Però, molto probabilmente, qui, quando i due si guardano, lui è in grado, per quella che è la sua calibrazione sociale che ha sviluppato, di capire che la situazione lì è on, ok? Alcuni uomini sono stati segnati dall'allattamento. E infatti, si gira indietro, aspettiamo un secondo, si gira indietro per vedere se lei lo sta guardando, in buona sostanza, e ora lei si rigirerà di nuovo, mentre lui si rigira, una roba abbastanza hollywoodiana, per qualche motivo, ma nella realtà non sarebbe impossibile che i sguardi dei due si incrociano qua. Dall'allattamento? Io no. Io sono stato segnato dalla vista di mia madre mentre faceva la doccia nuda. Aveva un grosso puve, tutto peloso. Affascinante. Provocò un'avversione verso tutto quello che è poco curato. A proposito, ecco Jen. Ha un cespuglio che ricorda la foresta selvaggia australiana. Ecco, quindi, come vedi, questo è molto importante, e questo è uno dei motivi per cui, tra l'altro, tu le ragazze devi imparare a scoparle per bene. Nel senso che, anche se non diventano la tua ragazza, le moglie attraverso tutta una serie di strategie, queste devono avere questo sentimento di calore comunque nei tuoi confronti. E il motivo è dato dal fatto che quando il locale ti vede che una bella ragazza ti si avvicina in questo modo, il tuo allora all'interno sale. E quindi, vedi, cioè, che qui di nuovo continua la cosa. In realtà, visto che c'è già fatto... Non la cosa, scusami, il discorso preselezione. In realtà, visto che ha già fatto sesso, francamente potrebbe essere semplicemente entrato, salutarla, salutare lui, fare quattro battute e andarsene, anche se non conosceva lui. Fintanto che non lo fai in maniera predatoria, visto che lui probabilmente, il biondo, se la sta lavorando, non è un problema. Le fanno più belle da quelle parti. È così, ma non chiedetemi il perché. Non ricordo il suo nome. Una precisazione, in realtà, di tutto questo lavoro, per così dire, per aumentare il proprio valore sociale all'interno del locale. Lui non ne ha bisogno, ovviamente, perché uno degli uomini più belli è il locale, ma questo non è vero per lo studente di seduzione medio, quindi è giusto fare queste precisazioni. E qui, in buona sostanza, succede qualcosa, cioè lo sguardo di lei che, eh, vabbè, può capitare, sono problemi di sistema, come vedrai. Ma ricordo bene l'espressione del suo viso quando scoprì che andavo a letto anche con sua sorella. Ma stasera non so... Se la vi capita. Sono a caccia della pelle liscia di una veltenne. È una situazione d'emergenza, e questo cambia il gioco. Ci siamo abiti firmati, donna di classe, e la sua pelle è frutto di un rigoroso programma di trattamenti di bellezza. Scommetto che guida una Mercedes. Comunque sia, c'è soltanto un... Quindi, in buona sostanza, visto che lui, il protagonista del film, è appunto un ragazzo oggetto, ovviamente si fionda su un target di questo tipo di motivi, per così dire, lavorativi. Che poi, per carità, parliamoci chiaro, la ragazza non è assolutamente male, anche se qualcuno di voi potrebbe considerarla una milf, e quindi, perché no? Vediamo come va avanti la cosa. Per rimorchiare, tutto il resto viene da sé. C'è solo un metodo per rimorchiare, tutto il resto viene da sé. Vediamo. Allora, io in realtà ho già visto la scena, e quindi voglio dirti una cosa prima di andare in quella che è l'analisi. Tutto, ma proprio tutto, quello che vedi all'interno di questo spezzone che stiamo per andare a vedere potrebbe assolutamente accadere nel mondo reale. Ok? Cioè, nel mondo reale, se lui fosse lui e lei fosse lei, con questo gap di età, in realtà le battute che lui usa potrebbero funzionare e potrebbero portare i due al sesso. Al netto di quanto ho appena detto, la maggior parte degli uomini non ha il suo, di lui, SMV, valore sul mercato sessuale. E quindi, in realtà, qui andiamo a vedere cosa possiamo cercare di imparare, cosa va bene, cosa magari non va bene per te, eccetera, eccetera. Ciao, come ti chiami? Samantha. Ecco, qui, in realtà, per lui, questo approccio, ciao, come ti chiami, piacere, io mi chiamo, X, va bene, molto probabilmente per te, specie come una ragazza o donna di questo calibro, no, ed è per questo che in Carpe Night abbiamo una sezione su come approcciare durante la notte, che è ben più evoluta di ciao, io sono X, tu come ti chiami? E, per carità, soprattutto quando sei al superinizio, non è necessariamente male andarsi a presentare semplicemente in maniera diretta, con la giusta dei liberi. E il motivo per cui non è necessariamente male, lo spiego in Attrazione Immediata, nel mio corso per superprincipianti, è che all'inizio ti permette semplicemente di superare un blocco, però poi dobbiamo necessariamente diventare un po' più tecnici di quello che fa lui, perché, ripeto, la maggior parte di voi, me compreso, non sono nella situazione del protagonista. Io mi chiamo Nicky. Sto andando via. Davvero? E perché? Perché è tardi. Hai ragione, ce ne dovremmo andare. Ok, il verbale di lui non è fantastico, nel senso che lei mette davanti una resistenza e lui dice, cioè dicendogli me ne devo andare, e lui dice a davvero e perché, e lei dice perché è tardi e qui inizia diciamo lui ad essere, ad interagire in maniera corretta, nel senso che gli dice hai ragione, ce ne dovremmo andare, come per implicare che se ne deve andare con lui. Ora, ovviamente, con la zona occhi e la mascella di sto stronzo e insomma tutta la faccia in realtà è molto più semplice, però cerchiamo di capire una cosa, quello che lui dice in termini cocky and funny, come diciamo in gioco tecnico, cioè hai ragione, ce ne dovremmo andare, implicando che ce ne dovrebbe andare con lei, è un qualcosa di positivo e che può funzionare. Il perché? Francamente no, l'avrebbe dovuta semplicemente stoppare o prendendolo aperto il braccio leggermente in maniera più sottile o mettendocisi davanti e dirle qualcosa del tipo che ne so, penso che prima di prendere la strada sbagliata dovresti prenderti almeno un paio di minuti per conoscere meglio il ragazzo affascinante che ti è appena venuto ad approcciare. Qualcosa del genere. Aspetta un attimo hai cenato qui? Che cosa hai mangiato? Allora, qui è interessante nel senso che lui in realtà presumo che questo spezzone è fatto bene nel senso che chi l'ha scritto probabilmente sta immaginando che a questo punto lui non sa cosa dire e quindi dice aspetta un attimo hai mangiato qui? Cosa hai mangiato? E c'è a dire una cosa. Allora, la prima cosa è che piuttosto che rimanere senza parole creare un silenzio imbarazzante e quindi far scemare la tensione in realtà è meglio a questo punto dire piuttosto quello che dice lui o qualcosa di alternativo. In realtà però se facciamo un altro ragionamento quando tu non sai che cosa dire una buona cosa da fare come regola generale ma ci sono mille istruzioni potrebbe essere quella di flirtare in qualche modo con la ragazza con qualche tecnica di attrazione perché questo? Perché non sapere cosa dire per non sapere cosa dire almeno cerco di spingere quella che è l'interazione verso dove voglio io cioè il sesso e quindi una tra virgolette tecnica di attrazione è ovviamente più conduttiva all'attrazione fra i due e quindi sposta più verso il sesso ci sta come ragionamento questo come regola generale qui subentra per esempio l'eccezione in questo caso lui dal punto di vista di quella che in gergo tecnico definiamo come attrazione ed escalation verbale in realtà ha appena escalato cioè gli ha detto è vero ce ne dovremmo andare insieme e quindi tu non puoi fare escalare 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 ma devi mixare gli ingredienti fra attrazione ed escalation da una parte e comfort e fiducia dall'altra quindi a questo punto qualcosa di più sensato sarebbe potuto essere qualcosa cos'è il tipo io faccio x sono x nella vita aver venuto mentire ovviamente non puoi dire che lui è una puttana ma vabbè e e tu invece cosa fai cioè si starebbe spostato verso comfort fiducia ok un'insalata che tipo di insalata un'insalata greca hai mangiato un'insalata greca in un ristorante francese mi piace che carattere qui la stuzzica un pochettino anche se avrebbe dovuto farlo in maniera un po' più provocatoria nel senso che mi piace che carattere è detto con un tono che è un po' di sfida e di presa per il culo però probabilmente poteva essere verbalmente più pungente che ne so per esempio quando lei dice un'insalata greca e lui assume che quindi questo precedentemente prima di trasformarsi in discoteca molto probabilmente è un ristorante e quindi avrei potuto dirle qualcosa del tipo che ne so oddio se hai preso un'insalata greca in un ristorante francese forse significa che dovrei un po' giudicarti ma mi piace che ti tieni in forma quindi in buona sostanza la sfiderebbe dicendole mi sa che ti devo un po' giudicare nel senso è da stramboidi prendere un'insalata greca in un ristorante francese e poi escala di nuovo dicendo ma mi piace che ti tieni in forma cioè in buona sostanza le stai dicendo che in una maniera che è girl friendly e appropriata per la durata tuttora di quella che è l'interazione ti voglio scopare scommetto che guidi davvero male ti accompagno io dai lanciamo una monettina testa guido io croce guidi tu pronta allora devo dire che francamente è piuttosto divertente questo spezzone francamente ritengo che prima di cercare di andare per la giugolare avrebbe dovuto cercare di insistere di più sulla combinazione comfort e fiducia e al tempo stesso però devo dire che la frase è abbastanza buona cioè il lancio della monetina è anche abbastanza buono perché in buona sostanza quello che sta subcomunicando è sì ti voglio portare a casa ma io voglio venire a casa tua quel che lei ti voglio trombare ma in realtà non ti prendo seriamente il lancio della monetina è del tipo sono qua al cazzeggio non 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 prendo la cosa troppo sul serio quindi è quello che in gergo tecnico in termini lo school venia ha definito self amusement e quindi per un ragazzo come lui decisamente non mi dispiace croce l'hai fatta apposta dovevo lanciarla più in alto dai non fare la scontrosa ecco lei gli dice l'hai fatta apposta lui gli risponde in maniera qualificante dovevo lanciarla più in alto dai non fare la scontrosa questo in realtà non mi piace questo è un errore nel senso che avrebbe dovuto aspettare il momento giusto per stopparla frontalmente invece che avere lei davanti e dirgli qualcosa e dirle qualcosa del tipo certo ve l'ho fatta apposta lo rifarei se fosse necessario con un intenso eye contact fra i due ascolta sei molto carino ma non verrai a casa con me grazie andiamo puoi essere se devo essere onesto non volevo darti false aspettative semplicemente sono molto preoccupato per la tua incolumità mia mamma mi diceva sempre niki quando vedi una donna uscire a un locale e dirigersi verso la sua macchina se pensi che potrebbe piacerti fai attenzione a non farla guidare a sola le donne al volante possono molto spesso essere pericolose soprattutto per se stesse qualcosa di questo tipo ma la cosa principale in realtà sarebbe il fatto di rovesciare lo script cioè lei dice non ti porto a casa con me e lui dovrebbe dire non voglio darti false aspettative come a dire guarda che aspetta un attimo ciccio non hai detto che ti scopo sei più convincente sono carino ma non posso venire con te perché scusi stavo solo cercando di non essere sgardato sei a fare sì sarebbe stato molto meglio di dove lui si sta indirizzando al netto di tutto questo però devi capire una cosa lei è vicina a hitting the wall come stiamo come diciamo in gioco tecnico cioè ha un crollo del suo valore sul mercato sessuale lui è al picco del suo valore sul mercato sessuale è comunque meglio di lei più giovane e quindi in realtà questi sono errori che lei può assolutamente perdonare cioè questa scena è molto realistica in realtà non ho alcun problema se sei lesbica scherzi a parte no in realtà è una cosa che avrebbe potuto dire lui non mi piace laddove si sta infilando dal punto di vista verbale però in realtà come tu vedi dal punto di vista del linguaggio del corpo la cosa va molto bene il concetto è questo se tu non hai il suo valore sul mercato sessuale come scrive in Carpe Knight è molto importante che tu cerchi di fare tutto quello che è tecnicamente umanamente possibile per portare la ragazza a investire investire maggiormente e inseguire maggiormente di modo che venire a casa con te da lei sia percepita come una vittoria lui questo non lo fa ma funziona in realtà e funzionerebbe nel mondo reale perché in realtà nella sua testa di lei lei sarebbe vabbè questo ragazzo così figo che anche se probabilmente mi tromba una volta è via e quindi è una tra virgolette sconfitta fuck it lo faccio lo stesso allora perché non posso venire a casa con te perché non ti conosco sì questo è un po' un problema perché non posso venire a casa con te nel senso che in realtà le sta mettendo in bocca delle risposte che sono problematiche no? perché se lo sta un po' buttando al culo da solo perché ovvio che lei risponde qualcosa del genere ma il principale problema con questo è che in realtà sta lasciando a lei la guida dell'interazione e non viceversa e quindi tutta l'interazione sarebbe stata meglio gestirla in maniera in cui lui era più dominante più maschile nel verbale non in quello che è sul linguaggio del corpo e portavala in seguire e sarebbe stato possibile semplicemente se si fosse preso più tempo per giocare meglio quelle che erano le sue carte ora magari questo in un film non è possibile per carità questa scena dovrebbe essere veloce però nel mondo reale comunque prendersi qualche minuto in più sarebbe stato un qualcosa di assolutamente positivo e aver ben alzato le sue chance di arrivare al sesso con la ragazza e parliamoci chiaro tu magari in questo momento stai dicendo Emma se ne doveva andare una ragazza non se ne doveva andare nel senso se una ragazza vede una donna soprattutto la sola e quindi non ha le amiche che rompono i coglioni per andarsene bla 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 vede un uomo che veramente le piace non si fa troppi problemi per un 5 10 minuti in più e anzi sarebbe un primo indicatore di disinteresse se non lo facesse in un locale notturno se di giorno se non deve andare ha un impegno al lavoro è diverso in un locale notturno no se la donna gli piace veramente non ha problemi ad accorciare la sua beauty sleep di qualche minuto per te abbassa i finestrini metti lo stereo a tutto volume e renditi ridicolo le metti a loro agio vero e falso allora è interessante nel senso che questa è una roba che si faceva chissà dove hanno visto gli scrittori del script ma alcuni la facevano in tempi old school nell'industria della seduzione francamente non sono d'accordo che sia una mossa particolarmente vincente o comunque non vincente per tutti sicuro ma per lui ci sta e il motivo per cui ci sta sta in due fatti il primo è che in realtà lei vuole un'avventura con un ragazzo più giovane e quindi è congruente che lui si comporti in maniera un po' più pazza più come dire immatura e più avventurosa se così la vuoi vedere il secondo motivo è che in realtà quello che lui deve fare nella sua posizione col suo smv per aumentare quello che è il comfort tra i due è rendersi più ottenibile agli occhi di lei e non una sorta di irraggiungibile james bond se così lo vuoi vedere è interessante che lui dice è bello qui ma lo dice come un'aria un po' come per dire bello qui e vedi anche l'addirittura si comporta molto bene all'interno dell'edificio nel senso che in buona sostanza lo scopo è non mostrarsi impressionato ok perché lei ovviamente ha uno stile di vita migliore del suo e quindi non vuole darle valore per questo ma vuole in buona sostanza semplicemente passare il messaggio per me queste cose materiali che tu hai in realtà non alzano il tuo valore in quanto sei una donna e quindi l'unica cosa che ti dà valore è essere fica e giovane cosa che in questo caso lei sta lentamente perdendo soprattutto la giovinezza in realtà cosa vorresti dire scusa non dar mai a vedere che qualcosa ti impressiona sminuirebbe il tuo valore esatto e qui lui conferma esattamente quello che ho detto io ora c'è una cosa molto interessante lui dice sminuirebbe il tuo valore se non erro ma penso e non sbagliarmi nel film in lingua originale lui dice proprio farebbe calare il tuo valore sul mercato sessuale è molto interessante questa cosa qua nel senso che quando Hollywood diventa più onesta del 99% dei insegnanti di istruzione probabilmente dovremmo farci un paio di domande vabbè cosa? no non bevo è qui molto buono quello che lui fa nel senso che non vuole bere e quindi non beve ci sta insomma non si vuole rovinare il six pack tanto oramai si sente piuttosto sicuro di arrivare alla chiusura ma è piuttosto interessante il fatto che lui semplicemente si dirige verso la camera a letto quindi qui sta guidando quella che è l'interazione in maniera molto molto buona ripeto questa è una cosa che lui può fare a fronte di quello che è il suo smv probabilmente per un uomo non probabilmente per un uomo normale sarebbe stato meglio semplicemente ingoiare il rospo bersi il drink magari sorseggiarselo piano piano in modo di berne il meno possibile ma dandole il tempo di aumentare per l'appunto comfort e fiducia a lei quindi farla sentire più a suo agio e in più un drink in più non le guastava nel senso che aveva diciamo la scusa per dire oh dio è semplicemente successo e ora è interessante quello che lui sta per fare due cose quindi vedi qui come le fa no col dito che è un gesto abbastanza dominante e ci sta niente stivali sul letto niente stivali sul letto questo è interessante a fronte del suo SMV è molto positivo quello che lui fa nel senso che in buona sostanza è ovvio che lei si deve togliere gli stivali no? a questo punto mi sembra abbastanza chiaro che i due vogliono trombare ma il modo in cui glielo fa fare fa sì che come diciamo in gergo tecnico lui la fa saltare in un cerchio e quindi la porta a seguire la sua guida a inseguire e quindi qui fa un grosso pull una grossa spinta in realtà nel senso che è come se vedesse un ultimatum ma è un ultimatum giocato molto bene perché a questo punto è chiaro i due sono lì si desiderano sono a un passo dal letto perché no? perché non dovrebbe succedere però lui comunque lo frema in un modo per cui lui sta dominando l'interazione e lei è quella più sottomessa e che segue molto molto buono molto più facile da fare quando tu hai quel valore sul mercato sessuale sovrasti la ragazza in valore però questo in rapporti di smb diversi magari potrebbe succedere anche a te quindi è un concetto che è bene capire l'unica cosa mi raccomando non prenderlo come una frase preconfezionata da buttare lì con tutte perché altrimenti riesci a buttartelo pesantemente al culo e qui insomma vediamo come finisce il punto bene se questo video ti è piaciuto ti ricordo che puoi trovare tutte quelle che sono le informazioni su come approcciare le donne correttamente di notte e specialmente se tu non ti trovi in una posizione privilegiata come quella del protagonista del film nel mio corso Carpe Knight in questo momento mentre stai guardando questo video se lo guardi al momento della sua pubblicazione il corso è in offerta speciale quindi ti lascio il link in descrizione e ti consiglio di darci un'occhiata